Cosa abbiamo imparato da questa stagione invernale degli anime? Il video seguente è basato solo su quello che ho visto in questa stagione, il video può contenere spoiler! Che se vuoi fare un anime con presenti tutte le creature concepite dalla fantasia dell'uomo, falle diventare prostitute e dagli un voto! Che se vuoi ricalcare le orme di un vecchio anime, lo devi fare bene, e diciamo che ci sei riuscito discretamente! Che se vuoi rubare il ragazzo a una donna, stalkeralo finché non si lascia e costringilo con la forza a mettersi con te! Che se vuoi essere un eroe con lo scudo, ho sbagliato anime! Che se vuoi essere un player buggato, usa uno scudo, un mecha, un angelo e un fottuto mega predator! Che la fantasia si può ricreare e esprimere come una vera e propria forma d'arte! Ovvero attraverso un anime in un anime fatto da tre ragazze anime! Che se metti un golem con una bambina, diventerà la cosa più carina del mondo! Che uno non può stare in pace neanche in bagno! Che se vuoi basare la tua trama su disegni fatti a caso e scene ecci per il 90% dell'episodio, dopo un po' vieni droppato! Che se metti un rettile, uno scarafaggio, dei demoni e tanti stregoni, creerai solo confusione! Ma una confusione bella è con 5 ending diverse! Che come sempre mettere tutti i personaggi più famosi degli isekai in un singolo anime fa morire da ridere! Che le iene femmine hanno il cazzo, che i koala mangiano la merda, che i capobranco ti leccano la bocca, che gli animali estinti si arrabbino molto facilmente, che... Che se sei in un videogioco, sei in un videogioco! Che Nobunaga si è ribalta totalmente tante volte nella tomba da creare ormai un buco nero! Che ci dobbiamo abituare a questi entai da 8 episodi stagionali! Che se fai una prima parte pazzesca, la seconda è meglio abbassare il tiro e fare un mega concerto! Che... Vergogna! Che se vuoi ambire ad essere il migliore demone, fai dei fuochi d'artificio! Che se vuoi fare una seconda stagione in maniera mediocre, ce la puoi fare senza problemi! Che se vuoi farla diventare la migliore stagione di sempre, raddoppi il protagonista, smetti di collezionare le medaglie, fatti una squadra incredibile e batti tutti! Che... Che cosa ci faccio qui? Comunque che se non lo condividete scordatevi una seconda serie fatta così!